Presidente, che opportunità è per l'Abruzzo e perché è stato giusto investire un milione? Un'opportunità enorme perché questo è un evento di rilievo internazionale, una delle principali fiere mercato cinematografiche non solo d'Italia, d'Europa e del mondo. Porterà migliaia e migliaia di persone da fuori, farà conoscere l'Abruzzo al mondo intero. Siamo in un grande veicolo promozionale, quello che avremmo speso per una campagna di promozione varrebbe 10 volte meno di quello che stiamo spendendo per portare questo evento della RAI in Abruzzo. La prima volta dopo tantissimi anni, dopo oltre 12 anni, quasi un ventennio, anzi che si fa nel centro-sud un evento del genere. Finora le regioni del nord avevano avuto l'esclusiva di questo evento e nessuno le ha rimproverate per aver fatto questo investimento. Per altro soldi che verranno rispesi sul territorio perché la RAI li utilizzerà per pagare gli alberghi, l'ospitalità, gli allestimenti, l'organizzazione dell'evento, tutto sul territorio abruzzese. Nel frattempo avremo ore e ore di passaggi televisivi che faranno conoscere la nostra regione. Un'occasione, un'opportunità per dimostrare che l'Abruzzo può essere sede di eventi di altissimo profilo, può essere appetibile e attrattivo per eventi internazionali e questo penso che sia un obiettivo importante per la nostra regione. Farla uscire, come era nei nostri programmi e nelle nostre intenzioni, da una sorta di destino di marginalità o di subalternità rispetto ad altri e diventare protagonista della vita culturale, economica e sociale della nazione. Grazie a tutti.